La migliore partita del Gela coincide con una vittoria netta, indiscutibile. Il 4-0 al Dino Liotta contro l'atletico Licata è un risultato giusto per quanto visto in campo e attenzione a pensare che l'avversario fosse modesto. Prima della sconfitta di ieri, infatti, la squadra di Alberto Licata le aveva vinte tutte in casa. Per i bianco-azzurri una prestazione maiuscola, impeccabile, la squadra realmente di altra categoria che coincide, guarda caso, in un campo decente come quello del Dino Liotta. Partita dominata nel primo tempo in lungo e in largo con tre gol e altrettante occasioni. La apre dopo dieci minuti Costarelli grazie a un diagonale perfetto sul cross di Buttigliera alla sinistra. Il raddoppio è del solito Maurizio Nassi che sfrutta una corte respinta del portiere di casa per inzaccare con la zampata vincente. Il Tris lo realizza ancora Costarelli che dribbla tutti e segna la sua personale doppietta per l'attaccante classe 2001 e il sesto centro stagionale. Il Gela potrebbe ancora dilagare ma Licata dice no ad un mister di Fiore ed è fortunato quando mezza salma sbaglia mira così come poi Nassi. Nel secondo tempo per venti minuti Bianco e Azzurri lasciano giocare gli avversari, poi seppur in dieci per l'espulsione di Bessio dominano il gioco e mettono il sigilo con Nassi, bravo a sfruttare la cavalcata di mezza salma dalla sinistra. Fiore e Italiano hanno anche la palla del 5-0 ma va bene sicuramente così. Il Gela chiude il giorno di andata terzo a quattro punti dalla coppia Sommatino-Mussomeli.